Allora, ciao a tutti! Abbiamo parlato di varie build in edizione ancora dev, più che altro perché come abbiamo anticipato, come abbiamo detto tantissime volte, sono anche le versioni appunto che permettono di sperimentare, di vedere, di fare tutta una serie di test. In questo caso andiamo a vedere quella che è, e ve la faccio vedere con un confronto diretto ovviamente del mio Explorer Resource perché il File Explorer nella versione 22.572 presenta una novità ovvero le tabs, le schede, come se fosse un browser, come se vedete qua c'è Google Chrome che ha le sue tab e qua possono essere aggiunte anche all'interno di Explorer File o File Explorer insomma chiamatelo come ne avete voglia. Vediamolo insieme. Vedete che qui c'è la possibilità di avere questo tipo di schede perché è una cosa che effettivamente è non solo utile ma estremamente intelligente perché tantissime volte, tantissime volte, tantissimissime volte nel corso della mia giornata devo continuamente fare tasto destro, apri, tasto destro, apri cioè crearmi valanghe di valanghe di aperture di Explorer File per poter poi sfruttare le varie funzioni per quale motivo? Per esempio dovete fare un semplice copia e colla, io ho un copia e colla oppure ho una cartella aperta che non voglio assolutamente perdere perché in quella cartella lì magari ha tutta una serie di radice, di destinazioni particolari che mi devono portare lì non la voglio assolutamente aprire quindi magari per esempio avete cartelle, parlo del lavoro cartelle che arrivano su un server, su un disco di rete, su una destinazione particolare che a voi serve in quel momento, tutte le volte una rottura di palle, se non ce l'avete ovviamente nell'accesso rapido, è una rottura di palle dove ero ogni volta a far tutti quei giri e magheggi strani, di conseguenza ogni volta voi ne aprite una nuova, soprattutto ripeto perché se volete fare un copia e colla è fondamentale a meno che non l'apriate da una parte fate il copia, poi aprite dall'altra, fate il colla, però poi se sbagliate insomma si torna indietro e la cosa va avanti così, qui invece vi offre questa possibilità, il file explorer che vi permette di dire lo apro una sola volta, dopodiché vado avanti a fare questo lavoro naturalmente come per le schede di un browser immagino possano essere poi disancorate vedete qua ve la fa vedere anche col tema scuro, possono essere poi immagino disancorate perché se io voglio fare un confronto diretto con le due cartelle potranno essere immagino disancorate a meno che uno non faccia ancora il solito tasto destro e si vada a vedere se la apre nel metodo classico, quello immagino sarà possibile tutto questo effettivamente dalla build 22572 arriverà anche in edizione finale sul nostro sistema operativo sarà da vedere quali sono le incognite per questo tipo di rilascio effettivo su windows classico beh innanzitutto la possibilità che ciascuna scheda, cioè magari uno le apra più di tot va da come dire sovraccaricare l'uso delle risorse di un pc perché magari uno continua ad aprirne, va avanti all'infinito e le sovraccarica da questo punto di vista poi è ovvio che aprirle facendo tasto destro apri, tasto destro apri è ovvio che la cosa non cambia, anzi forse è una migliore ottimizzazione quindi magari quello che sto dicendo io è semplicemente una stronzata però è ovvio che è un'apertura che di fatto piano piano inizia a dover tenere in canna determinate risorse per poter sfruttare poi tutto questo tipo di gestione poi come, quanto, se verrà ottimizzato, come verrà ottimizzato, con quale scopo cioè con quale scopo uno poi le apre se è soltanto un discorso di visualizzazione oppure magari c'è la possibilità di aprire un certo set di schede nell'explora file che vi permette per esempio di aprire, cioè quando io voglio aprire quel set di schede apro sempre quello, per esempio nei browser questa cosa già esiste se cercate su google chrome io vi ho postato milioni di possibilità offerte da google chrome che poi nella pratica nessun utente sfrutta, io stesso che a me, insomma mi piace smanitare a me piace le comodità, mi piace ottimizzarmi, certe funzioni poi in realtà non uso però potete per esempio aprire un tot di schede di google chrome metterci un'etichetta, volete raggruppare le schede secondo una logica perché le tenete sempre attive sì, poi vi dico, la pratica cioè prima di arrivare a una effettiva ottimizzazione di, cioè che porti effettivamente a dei vantaggi nonostante magari ci siano ottime intenzioni da parte che ne so di windows piuttosto che di un browser e tutto quello che conta sempre è la quotidianità la velocità nel fare una determinata cosa ma neanche la velocità l'abitudine nel fare determinate operazioni a me quante volte capita di incontrare persone che fanno tasto destro copia e tasto destro incolla una marea perché? ma non perché cioè uno gli dice scusa ma fa ctrl c, ctrl v per esempio ma tante persone non lo fanno ma non per cattiva volontà perché non è che tutti devono stare con il cronometro in mano perché devono fare la cosa più veloce però tantissime persone scelgono per abitudine di fare determinate cose questa cosa che vi ho appena detto delle tile che vengono aperte, vengono gestite io le ho trovate geniali, le ho trovate interessanti in pratica non la uso mai quindi purtroppo vince anche l'abitudine ma di sicuro la possibilità di aprire queste schede beh la trovo effettivamente molto interessante io sono uno di quelli che ne apre davvero tante e le tieni per forza aperte perché è fastidiosissimo dover chiudere magari una cartella per esempio quando io avrò finito questo video andrà a finire il video dentro la cartella video che mi sono messo ad esempio qui come predefinito per esempio e poi la caricherò su youtube spesso e volentieri bisogna fare anche un confronto con altre cose ma è vero l'accesso rapido vi permette di tornare indietro però se uno vuol tenere quella cartella lì per n motivi questa cosa effettivamente potrebbe nella pratica diventare nella quotidianità una cosa davvero davvero molto utile sul fatto che effettivamente usi risorse magari ho detto una stronzata enorme magari no però bisogna capire anche effettivamente quanto uso effettivo delle risorse questa cosa fa perché probabilmente non ha nessun tipo di uso e quindi è semplicemente buona norma e buone cose avercela aperta così come mi piacerebbe capire se effettivamente come sui browser ci sono tutta questa serie di ottimizzazioni o comunque averle aperte di default più di un tot possa magari trovare una propria effettività bene spero di avervi dato comunque qualche notizia interessante anche sul fronte di questa build 22572 di sicuro la funzione più interessante come novità della build 22572 io come sempre vi ringrazio vi auguro una buona giornata continuate a seguirmi se volete commentare vi dovete registrare ma questo ormai già lo sapete io vi saluto al prossimo video e ciao